Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti alla sfilata 2010 di Intimo La e Copstori. Per Intimo La, un applauso rappresentato dalla nostra Ginetta Lezio, vedremo sfilare Copstori e Intimo. Per Copstori invece vedremo abiti e jeans. Tutto questo sarà portato in questa passerella dalle nostre bellissime ragazze e i nostri previ modelle e modelli. Iniziamo subito con il ringraziare chi ci ha permesso di essere qui questa sera. Accompagnatevi con un grande applauso. Grazie a Pino Alpi, ai ragazzi Marco, Agostino e Daniele. Un grosso saluto va al nostro DJ Nappi, che ci accompagnerà per l'intera serata con la sua buona musica e i suoi effetti luce. Ringraziamo per finire Tele Diogere che registrerà tutta la serata. Bene, allora, siamo giunti al momento tanto atteso. Sento già i cuori palpitare delle nostre ragazze e anche dei bambini. Siamo tutti emozionati in primisilio. Bene, vi lascio un buon divertimento e un buon proseguimento di serata. E che la sfilata abbia inizio! Grazie a Pino Alpi, a Pino Alpi. Chiara a blu. Come fa il pane? Guardiamole, incidiamole queste belle pizze, vai! Sì, è la luce. Raggiungerci! Brava, brava, brava! Ecco le che sfidano i pichini. I pichini della linea Sorrisi di Mare. Il costume della linea Dragon Ball. E poi Massimo, che porta in passerella il costume della linea Smasciare. Modello, pezzo intero. Un applauso a queste bimbe, bellissime! Un applauso a tutti i bambini! Un applauso a tutti i bambini! No, non piangere! Sei bella! Manco! E' Beatrice, un applauso a questa coppietta, bravi, Beatrice, la top model di quella bambina, un applauso a questa coppietta, 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 un applauso a questa Questi vestiti, e bellissime le nostre ragazze Me e Barbara Coppe Ferretto della linea Chiara Blu, modello multicolor Un applauso a queste tre meraviglie Eccole che sfilano i bichini, coppa e ferretto, linea Chiara Blu, modello arginine Eccole che sfilano i bichini, coppa e ferretto, linea Chiara Blu, modello arginine FANTASY Eccole che sfilano i bichini, coppa e ferretto, linea Chiara Blu, modello FANTASY Eccole che sfilano i bichini, coppa e ferretto, linea Chiara Blu, modello FANTASY Ecco che la raggiunge la nostra Carmen Bella la nostra barba, l'emozionata L'emozionata ma fatti guardare Deborah e Carmen Eccole che sfilano i bichini, coppa e ferretto, linea Chiara Blu, modello FANTASY Maria Grazia Eccole che sfilano i bichini, coppa e ferretto, linea Chiara Blu, modello FANTASY Eccole che sfilano i bichini, coppa e ferretto, linea Chiara Blu, modello FANTASY Avvolta il bichini, ancora studiano i bichini e riprende Abbiamo visto che sfilano i bichiniそうだi Non avevo visto che la finisca del bichini che sfilano i bichini e che sfilano i bichini Grazie Bravissime, 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 con il costume in serio della linea Chiara Blu, modello Bic. Bravissime, bravissime, un applauso, abbiamo concluso con i costumi per le ragazze. Un applauso quindi a Ginetta, Intimola. Da Link e di Guay, il top story, la nostra Teresa, un applauso a Teresa. Ricordiamo sempre che il top story continua con il ricordarvi, la nostra Giussi, che entra in passerella. E' un applauso, e' un applauso. E' un applauso. Un applauso, e' un applauso. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti